Ciao a tutti, da Diego di Tecnofon, un saluto agli amici di Pianeta Cellulare. Eccoci qua, siamo a Nizza, questa è la code iniziale per la fila degli iPhone 6. Questa è la code delle persone che non hanno il dispositivo prenotato. Al momento, chi ha la prenotazione non deve fare la fila, perché verso le 6 e mezza usciranno fuori, chiameranno le persone con la prenotazione e allora poi dopo si inizierà la distribuzione. Comunque, questa al momento è la fila organizzata dalla Security, che è veramente antipatica. Ecco il nostro eroe, il numero 10 in pole position. Come sei? Decimo? È un bordello, sarà l'ultima volta che farò un limone. Sì, questa organizzazione lascia davvero molto a desiderare. Per il momento noi ce la spassiamo mentre questi fanno la cola, perché noi abbiamo la prenotazione. Ciao, da Diego.